Ehi ciao voglioni, sono Andrafft e siamo ritornati su The Legend of Zelda Breath of Wild Ce l'avevamo lasciati al palo, a questo palo della luce E ho anche scoperto che l'obiettivo non è questo, bensì sta qua giù Ecco qui, si poggia il padone praticamente La tavoletta Sheikah, tavoletta Sheikah riconosciuta, attivazione Torre Sheikah Forse ho capito, si consiglia di tenersi forte Cosa cazzo sta succedendo? Cinematic Un furetto se ne scappa Forse sto capendo quello che sta succedendo Vediamo i goblin, non sanno Ovviamente E io infatti mi chiedevo dove fosse quella torre Mi chiedevo dove fosse La torre che hanno fatto vedere in tutti i trailer Che io girando non riuscivo a trovare Ah ma ne è attivata più di una Se avete visto ne ho attivato un'altra in lontananza Link mi spiace ma ti sei tenuto forte Siccarutender Torre delle origini Invia informazioni nella mappa in corso Flick Vediamo un po' Ah ecco perfetto Mi ha aggiunto la mappa Ora tante cinematic Noiose ma Cosa? Devo ricordare Devo ricordare No Fammi giocare Lasciati guidare Io mi vorrei fare il salto della fede adesso Mi sa che non mi conviene Come si scende dalla torre C'è l'ascensore? Piano terra per favore Eh no Non si scenderà qua Qui? Scendi Ok Ah questo è l'ascensore Perfetto Piano terra Posso? Con la mazza bobblin forse? C'è questo ingranaggio antico Che si è Ha fatto sorgere una torre Praticamente Lascia Troppo forte Scendiamo Ci stanno dei L'energia Vabbè intanto andiamo Il becchiardo Ho sentito una Che palle Intanto so già tutto E che me lo chiedi a fare? Avrai visto anche tu Quella nuve inquietante Che avvolge il castello La chiamano Calamità Ganon Ah questa Proprio la nube Si chiama Calamità Ganon Quella che diceva nel trailer Un flagello che cent'anni distrusse La terra e dominava da queste parti Proprio in improvviso Dove essere senti Inveitati Bla 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 Ma durante questi ultimi cento anni È rimasto confinato Al castello di Aire Il fulcro del regno Che era smesso di sfondersi Adessi di non aggiungere quel castello? Boh Sì Ho stato piano isolato E circondato da strapiombi Sugnillato è impossibile scendere da quelle mura A meno che tu non abbia la paravela Mi presti la tua? Così proprio Subito Certo come no Ah perfetto Ma tutto a un prezzo Vediamo Che dici di uno scambio in tesoro nascosto? Vieni con me Puoi andare un po' più veloce Non c'è tutto il tempo Che cos'è là sopra? Che cos'è là sopra? Che cos'è là sopra? Che cos'è? 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 Non voglio quello Voglio quello là sopra Non voglio questo Quella paravela no? La porta mi viene quello che ti ho chiesto Andiamo Allora Scatole Con l'ascia ci riesco L'ascia è quasi distrutta L'ascia è distrutta Bene Era la mia arma più forte Sacrario di manuoma Buona Bene Ho rotto la mia mazza bobbly Non c'ho niente Ah c'ho la spada Ho preso anche la spada del viandante Ok Entro Bene Yes Mi fanno entrare in un dungeon Può essere Ah posso trasportarmi nei suoi punti Wow Bene Esamina Mi fa scendere Ok come avevo immaginato Faccia del cacchio Per chiudere questa cosa saccar Io sono maona Ti sottoporrò una prova del nome della dea Ilia Mi sa che questi luoghi Saranno tutti luoghi tipo di enigmi E se risolvi l'enigma Riesci ad entrare Andiamo a vedere Mettiamo una tavoletta shaker Ho imparato già il nome ragazzi Tavoletta shaker riconosciuta Inserimento strumento in corso Calamiton Manipola gli oggetti metallici Puoi agganciare Ah attenzione Uno strumento è stato aggiunto Quindi significa che tipo Ora Questo mi aggiorna gli oggetti Oh madonna Oh madonna Oh madonna Che figata Lo voglio mettere là sopra Non posso Allora aspetta Fammi agganciare pure questo Fammi sfiziare un poco Sono magneto Basta Madonna se mi cade in testa Mi distrugge mi sa Ok qui c'è un po' d'acqua Grandissima sta cosa Io penso che il padrone sarebbe stato anche più comodo Però così dai Tipo Questa qui la metto Qua Cosa cazzo Ma sto battendo tutto Posso sempre saltare No Se salto me lo Me lo leva Oh attenzione Che cosa è che cosa è Aspetta 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 Te lo sono in testa eh Ehi guarda Non sono pacifico Ti scasso la capa Se si vedesse Dove sta Cazzo cazzo fa Sprogo un po' le frecce però Andato Che cazzo sei Ingranaggi Una vite usata nei macchinari ancestrali Si può avvitare oltre Spanarsi Qui Ok Si scende Ah questa la devo spostare La lastra Vieni qua Mettiamo a posto Le 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 Olè Perfetto Ottimo Vabbè Basta che è funzionale E qui Non dirmi che la Che la apro Con solo magnete Ma stiamo scherzando Bu Potent Norma potentissima Già All'inizio Ciao Sono Link Sono venuto Per prendermi Il tuo oggetto Tu sei maona Si eh Gloria a te L'alto Deci Per aver superato la prova E dimostrato di avere la stoffa Dell'eroe Grazie Mio nome è maona Benedetto alla rivelazione Della Dea Ilia Mi da l'emblema del trionfo Ok mi ha dato qualcosa Non ho capito cosa Perché stavo cercando Di pensare alle scemità Bene Emblema del trionfo Un simbolo d'errorismo Conferito Quando supero la prova Vabbè è un emblema Il mio compito finisce qui Che la Dea Ilia Continua a vegliare sui ditti E il tesoro qual era? Forse proprio l'emblema? Ok Altopiano delle origini Cioè questo qua Quando viene Sembra uno sguaiato Di sotto casa mia Praticamente Vedo che è tenuto L'emblema del trionfo E la paravela Aspetta aspetta Quanta fretta Vedi l'apparizione Di quelle torri L'attivazione Di saccarie luminosi Tutto ciò è dovuto L'ho detto C'è che porti con te E la paravela Lasciami finiti parlare Lo sto facendo incazzare Quanto tempo fa Questa terra abitava Una civiltà altamente avanzata E' stata chiamata Sheikah Grazie a loro una volta Viene l'intelligente Viene l'emblema Viene l'emblema Viene l'emblema Viene l'emblema Viene l'emblema Viene l'emblema Ascoltami bene ragazzi Sparsi su questa terra Ci sono altri sacrani Come quello che è esplorato Su questo torre Troverei altri tre Dove hai ottenuto tutti gli emblemi Nel trionfo In questa terra Allora lo titolo La mia fara vera Cosa? Tutti? Vatterò diversi Eh si ho cambiato leggermente idea Ma che la stupezza e merd Non so se mi sta simpatico Mi sta antipatico Proverò ad accoparlo Ciao vecchio Ma questo non muore mai Non gli riesco mai A tagliare la panza Te lo faccio cadere in testa Voglio farlo cadere in testa Al vecchio Olè Anilla Ih Questa è la sua reazione Che cos'è? Un tesoro Wow Va bene scendi Spanked Apriamolo Col calcio Quanto tamarraggi Nel link Iolo Olè Tipo posso Fare così Teletrasportati Giusto Ma che cazzo ci fa lui qua? Ma vola Mettiamoci un attimo Qui sopra E usiamo La tavoletta shaker Allora Uno sta lì Un altro l'avevo visto Da queste parti Ciao vecchio Un'altra sta tipo lì Eccolo lì Un'altra Che sarà quella più vicina Mi sa che Arriviamo un attimo lì Sta arrivando la notte pure Ma posso tipo prendere un Con il potere di magneto Un qualcosa E mi faccio Teletrasportare Oh cacchio Allora mi sa che No Mettate zitti Braccio di Stalboblin Braccio di Stalboblin Che guarda è ancora vivo Praticamente Pipistrelli Ciao Amiche mi fate male Sì mi fanno male Sì mi fanno male Vabbè Gli sciotto Allora ci sono quasi Darci pure pure di notte Bella musica Ma mi potevo stare zitto io Buongiorno Buonasera Cazzo Salta Salta Mi ha shottato Ah Ah Un bestiracchiamento Tattico Salve Corri Proprio modo Dovete venire voi Porca miseria Proprio modo Pure voi Chi è dietro Aiuto Che c'è in mano Ottima La lancia Bella Titti Spadone del viandante Questo Tattici di attacco Cazzo Però No 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 Mia Che palle Vado sti non morti Andiamo E no E no Un altro Cazzo 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 Perché Aiuto Tipo Cazzo Si può colpire Aiuto Ma non così Non così Ma questo non lo abbatto mai Non lo abbatto mai Allora Io vado fugliolo adesso Vai Cazzo Cazzo Un solo colpo Vedremo nel prossimo episodio Cosa ci sarà in questo santuario Ragazzi Quindi se il video vi è piaciuto Lasciate un like Condividete il video Iscrivetevi a Undraft Se non l'avete già fatto Ma soprattutto Commentate Quindi almeno resta che salutarvi Un saluto da Undraft E Ciao a you Ciao a you Grazie per la visione!